Buongiorno a tutti eletronauti, oggi legato al mondo delle batterie c'è veramente tanta fuffa ma anche tanti ricercatori in grado di confutare le loro tesi in attesa della messa in produzione delle nuove batterie oggi l'ennesima casa costruttrice cinese afferma di avere una batteria in grado di caricarsi in 5 minuti approfondiamo il discorso e parliamo anche di Tesla, BMW, LG, Audi, Fiat, Citroen e chi più ne ha più ne metta cominciamo subito, io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video questo video è sponsorizzato dalla carrizzeria Musesti ma prima parliamo di ricarica ultra veloce ok ragazzi seguitemi, qual è il problema principale delle auto elettriche oggi? perché chi ancora non è passato all'elettrico si lamenta di questa tecnologia? beh la risposta è da ricercarsi nel tempo della ricarica alla colonnina fast infatti per ricaricare un'auto elettrica ci vogliono circa 90 minuti e sì obiettivamente sono tanti sono tanti anche per il fatto che di colonnine così fast ce ne sono poche è anche vero però ragazzi che non è sempre necessario caricare la batteria al 100% per riprendere il viaggio a volte bastano il 40 o 50 ma anche meno ma ovviamente purtroppo si è focalizzato nell'immaginario complessivo delle persone che chi ha un'auto elettrica sia un perditempo e allora attenzione perché potremmo essere vicini a un punto di svolta Desten, una società di batterie fondata nel 2015 a Hong Kong ha appena annunciato un'importante novità le sue batterie sono in grado di ricaricarsi in meno di 5 minuti più precisamente l'azienda afferma che le sue batterie possono essere ricaricate dallo 0 all'80% in 4 minuti e 40 secondi in sostanza la batteria che ora è un prototipo funzionante ed il suo veicolo elettrico che la ospita sono pronti per caricare ad una potenza fino a 900 kilowatt ovvero circa tre volte la potenza massima delle auto attualmente disponibili mi sto riferendo ovviamente a Porsche Taycan che al momento è capace di raggiungere a piena potenza di ricarica i 270 kilowatt ovviamente però Desten si trincera dietro un muro di carta non spiegando giustamente i dettagli della sua tecnologia ma le sue batterie dovrebbero essere utilizzate nella Peak GT la prima auto elettrica svizzera di cui vi ho parlato la scorsa settimana l'azienda cinese ha comunicato di aver lavorato su materiali lari utilizzati per la batteria e sulle strutture delle celle adottando composizioni chimiche di nuova generazione e sviluppando linee di produzione specifiche per esse per questo le batterie di Desten tendono a mantenere un'elevata stabilità termica e sono estremamente resistenti al surriscaldamento consentendo loro di resistere a ricariche molto potenti i cinesi hanno ottenuto da enti esterni la certificazione che la batteria anche sotto sforzo non supera mai la temperatura esterna di oltre 15 gradi centigradi e questo gli è valso ad esempio la certificazione di sicurezza ONU 38.3 se è un bluff o una rivoluzione lo scopriremo a breve e dall'altra parte del mondo in America sembra che Tesla stia lavorando ad una batteria LFP da 60 o 55 kWh con un'autonomia che sale da 448 a 491 km in VLTP che probabilmente verrà montata su un Model 3 Standard Range Plus e potrebbe essere revisionata anche per una possibile Model Y Standard Range Plus e chi lo sa magari anche per una Model 2 e comunque per voi gli amici nerd che ci seguono il seriale comincerà con E6LR e se vi piacciono le felpe che mi avete intravisto indossare in questi giorni ragazzi il momento è arrivato da questa mattina alle 10 saranno disponibili per il preordine in una collezione a tiratura super limitata il design è stato studiato con un artista italiano sono morbide e la stampa è di altissima qualità e per chi volesse preordinarle nei 4 stili differenti ci sarà uno sconto applicato automaticamente quindi in pratica è un paghi 3 prendi 4 rimarranno in preordine fino ad esaurimento scorte e saranno consegnate nella seconda settimana di dicembre in tempo per i regali di Natale e chi lo sa magari qualche consegna la farò direttamente io a mano le trovate su www.elettronauti.it ci credo tanto in questo progetto quindi andate a darci un'occhiata e tra chi crede in me c'è anche la carrozzeria Musest il primo Tesla Body Shop ufficiale di Brescia il punto di riferimento per tutti i guasti o rumorini o incidenti che coinvolgono le nostre amate Tesla ma anche ovviamente le altre marche non dimentichiamocelo il personale ha dovuto superare difficili corsi ed esami imposti da Tesla per poter essere riconosciuto a livello nazionale dalla verniciatura, alla saldatura, alla messa in ordine del telaio al montaggio e smontaggio dei componenti e all'analisi delle varie apparecchiature elettroniche compreso ovviamente la taratura di tutti i sensori di cui la macchina dispone la carrozzeria poi è completamente ad impatto zero il tetto è ricoperto da pannelli fotovoltaici ad alto rendimento e l'energia viene accumulata in batterie al litio poste in un locale adibito questa energia viene ceduta ai forni e a tutti i macchinari che lo richiedono ed è oltretutto a disposizione anche delle auto elettriche dei clienti in parcheggio presso la carrozzeria e ragazzi Musesti non è solo professionalità e competenza è anche simpatia e famiglia quindi se avete un qualsiasi problema con la vostra auto sapete già dove andare avrete anche a disposizione gratuitamente un'auto sostitutiva ah e dimenticavo essere un Tesla Body Shop autorizzato vuol dire che qualsiasi riportazione fatta sulla vostra Tesla non vi farà perdere la garanzia la carrozzeria è diventata main sponsor del mio canale quindi aspettatevi un trattamento particolare quando ne avrete bisogno e mi raccomando se andate a trovarli dite che vi manda il vostro amico Matteo Valenza e a proposito di amici ragazzi avete sentito i problemi che sta avendo LG con le sue batterie? beh in America la Chevy Bolt è un po' in crisi perché le sue batterie prendono fuoco da sole uno scherzetto che costerà a LG circa 2 miliardi di dollari e forse potrebbe anche guastare l'amicizia con Stellantis che ha stretto una joint venture appunto con LG per la produzione delle batterie delle sue future auto elettriche beh staremo a vedere e sempre parlando di energia vi ricordate della start-up Lightyear? al posto di bruciare batterie preferisce costruire auto con pannelli in modo di ridurre il più possibile il numero di celli presenti appunto nella batteria recentemente ha prodotto un altro modello di auto con più pannelli e molto più efficienti la batteria è relativamente piccola 60 kWh per una percorrenza di 400 km oppure 720 contando anche i chilometri che i pannelli sono in grado di generare grazie al sole questa cosa non so quanto funzioni però speriamo in realtà al proposito se non lo avete già visto ho fatto un esperimento simile con il pannello solare sul tetto di Ioniq 5 che ha dato dei buoni risultati ve lo lascio in alto a destra nelle schede e da poco ho cominciato anche a contattare BMW per provare le sue nuove nate elettriche la prossima settimana proverò infatti la Mini SE la versione elettrica dell'iconica Mini Minor che ci piace tanto ma non mi fermerò lì spero almeno la mia intenzione è di provare tutti i modelli anche la più vecchia i3 ma ovviamente puntando a provare la i4 e la iX che sto tendendo parecchio BMW ha di recente comunicato che nel suo stabilimento di Monaco di Baviera sono iniziati i lavori di produzione della i4 che verrà lanciata insieme a BMW iX e sarà disponibile in due versioni 340 o 544 cavalli con autonomia che va da 590 a 510 km in ciclo WLTP e sinceramente ragazzi non vedo l'ora e BMW non accenna a voler mollare sta sviluppando infatti anche serie 3 electric nome in codice NK1 avrà batterie da 800 V con picco di ricarica pari a 350 kW attendiamola per il 2025 con una nuova piattaforma new class ok bellissimo ma no dai 2025 troppo in là facciamo che arriva nel 2023 dai e continuiamo a parlare di marchi tedeschi passando questa volta ad Audi che sta lavorando sulla nuova A4 e-tron si baserà sulla piattaforma PPE avrà trazione integrale 496 cavalli con 590 Nm di coppia e autonomia 700 km VLTP architettura 800 V e capacità di ricarica fino a 270 kW e rifacciamo un salto di nuovo in America parlando un pochino di Tesla perché questa settimana ha fatto abbastanza parlare di sé e con è che non lo fa ragazzi va bene questa volta però partiamo dalla borsa il titolo del marchio americano di autoveicoli elettrici per eccellenza questa settimana ha avuto un picco spaventoso grazie forse a Hertz la compagnia di noleggio veicoli che ha ben pensato di comprare 100.000 Tesla tutte in blocco si pensa a un modello specifico la Model 3 Standard Range Plus chissà Tesla che sconti gli avrà fatto e forse il titolo non è schizzato solo per questo forse anche grazie alla notizia che Tesla Model 3 è stata l'auto più venduta in Europa nel mese di settembre e attenzione la più venduta di tutte le auto non solo di quelle elettriche infatti nel mese di settembre sono state immatricolate 24.600 Model 3 al secondo posto si trova il Renault Clio con solo 18.300 vendite non male Tesla e ora che sono anche stati riaperti gli eco-incentivi forse un pensierino ce lo farei ragazzi forza ragazzi spendete spendete voi che io sono povero ma poi io quanto vorrei comprarmi Cybertruck? e magari ragazzi magari negli ultimi giorni se ve lo siete perso è comparso da nulla un video teaser di questo Cybertruck e che non lo so è ripreso da un televisore sembra quasi una presa per i fondelli comunque vi ricordo che la versione più potente costerà 60.000 euro dovrà tre motori raggiungerà una velocità massima di 210 km orari con un rispettabile 2.9 secondi da 0 a 100 con un'autonomia da 800 km la versione d'attacco partirà da 35.000 euro ma ci sa sono prezzi che dice Elon Musk in realtà da 35.000 è più auspicabile che partirà da 50.000 e per chiudere le notizie di Tesla vi informo che tra qualche aggiornamento sarà possibile vedere da remoto solamente in park per ora tramite l'applicazione via smartphone le telecamere della vostra Tesla l'aggiornamento arriverà prima per iOS e successivamente per Android e a quanto pare servirà la versione software 2021 36.8 e la versione d'applicazione 4.2.1 o successive non correte a guardare la versione che avete voi in questo momento perché ad oggi in Europa ancora non è stata consegnata come sempre per noi ci vorrà un pochino più di tempo nel file dell'app di Tesla inoltre sono stati trovati tre nuovi colori che potrebbero essere prodotti dalla Giga Berlin in Germania vi ricordo infatti che Giga Berlin avrà un reparto specializzato solamente per la creazione di nuovi colori e questi tre potrebbero essere già confermati e sono cremisi intenso blu abisso e argento mercurio a me ovviamente piace il blu e qual è invece il vostro preferito? ma adesso basta parlare di Tesla passiamo a Fiat che è intenzionata a rilasciare durante l'estate del 2022 sul mercato il nuovo Fiat Doblo disponibile anche in versione elettrica con 136 cavalli e speriamo che confermino la 120 perché il concept a me piaceva veramente tanto e chiudiamo con un paio di news veloci Citroen presenta la sua nuova C3 electric chiamata i6-3 e all'inizio del prossimo anno costerà 18.000 euro sarà disponibile in due versioni 68 cavalli 40 kWh di batteria 200 km di autonomia oppure 136 cavalli 50 kWh di batteria e 350 km di autonomia sarà in competizione con Dacia Spring speriamo almeno che però i sedili siano un pochino più morbidi e passiamo ora alle hypercar parlando di Vazirani Hancock prodotta in India nel 2023 peserà 773 kg ed avrà 722 cavalli quindi praticamente peso potenza sarà uno a uno e chiudiamo veramente questa volta con Aston Martin che si ricrede ha comunicato infatti che nel 2026 sfornerà la sua prima auto elettrica si chiamerà Vante non avrà due portiere lunghe quanto tutto il passo ed un cofano lungo in puro stile Aston Martin non c'è nessun dato tecnico ma questi bellissimi render non sono convintissimo però quella blu non è male bene ragazzi per oggi le news elettriche della settimana si fermano qui ci sarebbero ancora tante altre cose da raccontarvi ma il video è venuto fuori troppo lungo lo farò nel video di domenica prossima oggi è Halloween quindi questa sera non andrà in onda alla consueta live ma niente paura in via del tutto eccezionale la live è solo spostata a domani lunedì primo novembre quindi a presto ragazzi e buona domenica